il video si è un attimo fermato avanti perché mi sa che la battita si sta cioè la mano si sta riempendo facciamo meglio qui spero che mi sbrigo vuole l'aeroporto che finisce carta aereo si sta registrando ah no ha vinto se le pesarei ha fatto ricordi in maracco sei in esclusione del deserto del sahara in maracco ovunque tu guardi solo dun e sabbia questo è l'ultimo obiettivo quindi avrei una foto bombs ha vinto altre foto ricordo beh complimenti a tutti ora lanciamo i stati finali luca è 4 posto con una foto e 16 monete nick è il terzo posto con 2 foto e una moneta hotel che c'è da zero sei al secondo posto con 2 foto e 57 monete ai e a vincere ai con 3 foto e 22 monete vittoria beh adesso io vi dico in soldi vi ciao e nella prossima parte si andrà avanti con gli altri giochi di gruppo iscrivetevi al canale iscrivetevi nei commenti se volete e mettete mi piace al non mi piace e rispondete anche a una domanda nella prossima parte si farà 3 per 2 ciao ciao